video ricetta del dolce di amalfi ingredienti 160 g di zucchero 130 g di burro 3 uova 100 ml di latte 100 g di mandorle 80 g di farina 50 g di fecola di patate 2 limoni un baccello di vaniglia 60 g di limone candito 5 g di lievito per dolci sale e farina di mais mescolare la farina con il lievito e la fecola di patate lavorare a crema con le fruste elettriche il burro morbido assieme allo zucchero fino ad ottenere una crema perfettamente liscia unire poi nell'ordine una per volta la scorza grattugiata del limone il sale e la vaniglia il limone candito tagliato a cubetti e le uova intere continuare a montare gli ingredienti usando le fruste incorporare poco per volta la miscela di polveri alla crema al burro infine aggiungere sia il latte a temperatura ambiente che le mandorle tritate finissime imburrare e infarinare usando la farina di mais una tortiera da 24 centimetri di diametro versare il composto e livellare la superficie quindi cuocere il dolce di amalfi in forno preriscaldato a 160 gradi per circa 60 minuti servire infine la torta a temperatura ambiente con sparsa di zucchero a velo a 15 minuti servire i